E' tornato! E' tornato! Ma chi? Talmone presenta... Mi che son mi! Ma 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 lo sai chi c'è? E' tornato per davvero E' tornato sul velliero E' tornato sul vellier Ma 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 lo sai chi c'è? E' tornato per davvero E' tornato sul velliero E' tornato sul vellier E' dindondiro Lelì, lelà, lelà che l'aspettava Lelì Lelà, lelà che l'aspettava Lelì Lelà, lelà che l'aspettava Lelì Lelà che aspettava Miguel Mi che son mi! E' ti, e' ti, e' ti non dice niente E' ti, e' ti non dice niente E' ti, e' ti, e' ti non dice niente E' ti, e' ti dice niente a Miguel Miguel são sempre mi! Il belliero in mezzo al mare corre insieme alle balene, lo salutano le sirene, lo salutano le sirene. Il belliero in mezzo al mare, lo salutano le sirene, lo salutano le sirene, lo salutano le sirene. Sì, il buongiorno si vede dal mattutino Talmone, il biscotto della prima colazione, sempre fresco e friabile come appena fatto dalla mamma. I mattutini Talmone aiutano tutta la famiglia a cominciare bene la giornata, per questo il buongiorno si vede dal mattutino. Garantisce Talmone.